Ne accontenti due e ne scontenti due. I numeri potrebbero ancora non tornare al sindaco Maurizio Brucchi che ha appena varato per la terza volta una nuova giunta a nove assessori con la speranza di tenere stretta la sua maggioranza. L'entrata in esecutivo di Alfonso Di Sabatino della lista civica a Teramo soprattutto, che solo fino a due mesi fa chiedeva la testa di Brucchi, facendo spesso mancare alla maggioranza i suoi voti, è quella di Silvio Antonini, Scuderia Gatti e entrambe hanno fatto storcere il naso ai consiglieri di maggioranza Vincenzo Falasca e Mimmo Sbraccia, che hanno dichiarato ufficialmente di non approvare le scelte del sindaco. Un'aggiunta con nove assessori non piace nemmeno alla minoranza, ma soprattutto ai teramani, che sanno bene quanto costeranno due nuove poltrone, circa 100.000 euro l'anno in più. E intanto si aspetta di conoscere le deleghe non ancora ufficializzate. Brucchi dal canto suo replica che la città di Teramo sta vivendo un momento storico eccezionale e che l'emergenza richiede decisioni straordinarie e dunque vanno messe in campo tutte le forze possibili. Ma per nuove forze politiche che arrivano, altre vanno via, così alla fine della fiera la maggioranza al comune di Teramo sembra ancora traballare.